Martedì 13 febbraio, San Benigno di Todi. È il 44esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 321 al termine. Il sole sorge le 7 e 16 minuti, tramonta le 17 e 38. La luna sorge le 5 e 52, tramonta le 15 e 23. Muore a Venezia nel palazzo Vendramin Calergi sul canal grande Richard Wagner. Aveva 70 anni e la morte lo colse nella città che tanto aveva amato. Si dice che il grande compositore tedesco portasse sempre con sé un fermacarte con il leone di San Marco. Le previsioni per domani, cielo in prevarenza sereno con ottima visibilità, clima asciutto e piuttosto fresco specie in quota. Precipitazioni assenti, temperature minime in ulteriore lieve calo, congelate diffuse anche in pianura, massime in lieve aumento. Il nostro corso di un'altra parte 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 di un